Fincantieri presenta l'ultimo gioiello dei mari e conferma il ruolo trainante nell'export regionale e nell'occupazione oltre 9000 addetti nei cantieri munfalconesi. Fedriga subito all'attacco di Serracchiani, io non sono fuggito a Roma, Bolzonello risponde dal centro-destra solo slogan senza contenuti. Bruno Mazzocato nel suo messaggio pasquale parla di emergenza lavoro e chiede risposte alla politica. Incidenti a Basiliano e Magnano in Riviera, tre feriti, a Sacile cade un postino dallo scooter e li trasportate in condizioni gravi all'ospedale di Udine. L'udinese ritrova Iancto ma perde Berami per tre settimane in rampa di lancio, Balic positivo nelle ultime uscite. Buonasera a tutti, ben trovati all'appuntamento serale con l'informazione di Udinews TV. Tra poco tutti i fatti di oggi che approfondiremo con i nostri servizi e con il contributo al web di Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Giorgia. Prima però come sempre la pagina dedicata all'udinese, allora buonasera anche a Stefano Giovampietro. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti voi che ci state seguendo. Come abbiamo letto dai titoli arriva un'altra brutta notizia per quanto riguarda l'udinese di Massimo Oddo. Come possiamo leggere dal sito ufficiale è arrivato il comunicato relativo alle condizioni fisiche di Balon Berami. Lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro per il centrocampista Bianconero. Nel comunicato si parla di tempi di recupero da monitorare attentamente giorno dopo giorno, anche se la sensazione è che siano almeno tre le settimane di stop per Balon Berami che lavorerà per tornare il più presto possibile. Oggi ovviamente non si è allenato lo svizzero ma facciamo il punto su quello che è successo oggi al centro sportivo Bruseschi. Mercoledì pomeriggio di allenamento per l'udinese di Massimo Oddo che ha spostato la seduta dalla mattina al pomeriggio e ha effettuato una partitella con la primavera, una partitella che ha dato molti spunti per quanto riguarda la prossima sfida contro l'Atalanta sabato alle ore 15, disputata in due tempi ridotti, non da 45 minuti, in cui si sono alternati anche vari elementi, anche con qualche prova interessante di 4-3-3, variazioni però sul tema che vedremo se riguarderanno o meno già la partita contro i nerazzurri. Si è visto comunque davvero un ottimo spirito, una grande voglia di fare bene da parte di tutti i ragazzi del gruppo residuo a disposizione di Massimo Oddo in attesa del rientro dei nazionali. Oggi sono tornati soltanto gli italiani, Amner 21 Scuffet e Pezzella, Pezzella che ha svolto una seduta personalizzata così come Secofofanà che cerca di smaltire il più presto possibile l'infortunio, non dovrebbe esserci con ogni probabilità a Bergamo così come non ci sarà Valon Berami per lui, almeno tre settimane di stop e in un aprile denso di appuntamenti di certo non la migliore notizia che si aspettava Oddo proprio dalle nazionali, infortunatosi prima dell'amichevole contro Panama Valon Berami, oggi nemmeno Lasagna ha preso parte alla partitella, ha assistito al primo tempo seduto in panchina poi ha preso la via degli spogliatoi, anche per lui una seduta personalizzata senza stare a rischiare troppo in partitella dove i ritmi sono stati come abbiamo detto molto molto alti, hanno giocato davvero tutti molto bene hanno spiccato un po' su tutti Bram Noiting, anche Stipe Periz ha scatenato molti gol sia nel primo tempo con la prima squadra che nel secondo tempo è prestato alla primavera Chi era in forma smagliante ed è un'ottima notizia, Cuba Yankto che ha fatto davvero un'ottima partitella e si candida prepotentemente a tornare a titolare in un centrocampo che invece fa molta fatica ed è praticamente in uno stato di emergenza considerata anche la squalifica di Antonin Barak Yankto che quindi sta benissimo ed è pronto a dare il suo apporto alla causa bianconera contro l'Atalanta a proposito invece di quelli che stavano rientrando dall'infortunio, da segnalare che Angela ha iniziato la partitella tra le fila della primavera, poi ha abbandonato il campo per un riacutizzarsi del fastidio al polpaccio infortunato ed è una situazione che lo staff medico monitorerà nei prossimi giorni, nei prossimi allenamenti E' un udinese quindi che si prepara alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini che vive sicuramente un momento di ottima forma e il centrocampo è falcidiato dalle tantissime assenze ne abbiamo parlato nel corso del servizio sull'allenamento e quindi a chi toccherà il rampa di lancio abbiamo detto Andrea Balic ma anche Alfredson, sentiamo La sosta per le nazionali, per alcuni è ottima, per altri un intoppo di sicuro per l'udinese è stata fuori era di cattive notizie l'ultima, una meno attesa, è stato l'infortunio di Valomberami l'ennesimo di una stagione decisamente sfortunata sotto questo punto di vista lesione di primo grado per lui e circa tre settimane di stop che in un mese, con sei appuntamenti in venti giorni, rappresenta la peggiore delle notizie un'assenza che priva oddio del suo centrocampista equilibratore ma che apre tante spiraglie e nuove chance a chi ha giocato di meno ma che nelle ultime partite ha dimostrato la grinta giusta entrando sempre bene a gara in corso parliamo ovviamente di Andrea Balic che una volta rientrato dalle nazionali con ogni probabilità andrà a piazzarsi in cabina di leggia per guidare il gioco friulano già a Bergamo il classe 97, già protagonista di un ottimo finale di stagione lo scorso anno con annesso primo gol in A si deve far trovare pronto a un'altra grande chiusura di stagione anche perché chi spesso ha sostituito Berami, vale a dire Secco Fofana resterà in box per problemi muscolari scelte ristrette a centrocampo praticamente quasi obbligate per l'allenatore bianconero che perde per squalifica Antonin Barak forse nel peggior momento possibile recriminare per l'ingenuo giallo preso dal centrocampista cieco contro il Sassuolo non serve anche se la sanzione era sicuramente evitabile e Oddo dovrà correre ai pari con gli elementi a disposizione relativamente a questo discorso riveste grandissima importanza il recupero a pieno regime di Jakubi Ancto che si è messo a lavorare sotto per smaltire il trauma contusivo alla coscia destra riuscendoci in tempi molto brevi dovrebbe essere lui il punto fermo di un centrocampo che dovrebbe essere completato da Alfredson il quale nella gestione Oddo ha giocato titolare solo nel recupero contro la Lazio e proprio da quel Balic pronto a riprendersi il palcoscenico e dimostrare le sue qualità anche in un trittico di gare di certo non semplici come Atalanta, Fiorentina e Lazio sfruttando quell'opportunità concessa dallo stato di emergenza ma al contempo guadagnata con le ultime buone prestazioni prossimamente in casa l'Udinese affronterà Fiorentina e Lazio e di Udinese Lazio parliamo con il prossimo comunicato che è apparso sul sito ufficiale bianconero relativamente all'iniziativa del main sponsor Dacia per la prima volta nella storia del calcio una squadra giocherà con 11 maglie delle passate stagioni tutte diverse tra loro questo è il lancio della nuova iniziativa Dacia di auction con 11 vincitori che potranno vendendo all'asta le magliette con cui si giocherà Udinese Lazio finanziare quelli che sono i loro progetti commerciali e non che hanno presentato proprio all'auditorium della Dacia Arena quindi adesso c'è curiosità di vedere questa partita casalinga con note cromatiche sempre bianconere ma 11 maglie diverse il banditore dell'iniziativa sarà Ciro Ferrara ovviamente un giocatore straconosciuto nel panorama del calcio italiano sul sito tutte le informazioni per chi volesse approfondire torneremo a parlare di sport nella finale perché c'è stata anche una bella vittoria della Friuli Venezia Giulia nel torneo delle regioni e non solo quindi ci vediamo a fine TG Lina che può tornare a voi A tra poco Stefano grazie noi apriamo parlando di Fincantieri Fincantieri che oggi ha presentato ha consegnato l'ultimo gioiello del mare la Carnival Horizon che tra poco vi faremo vedere nelle nostre immagini prima però andiamo ad ascoltare le parole dell'amministratore delegato Bono che ha fatto un pochino il punto su quelli che sono i risultati del gruppo ed è ritornato su un tema a lui particolarmente caro quello dei giovani che secondo Bono devono dare di più per quanto riguarda il sacrificio la dedizione alla formazione e al lavoro sentiamo Gli italiani e i ragazzi soprattutto si devono svegliare rivendicare il proprio ruolo perché non ti regala niente nessuno perché la competizione non è solo tra le industrie ma tra le persone e quindi se noi non abbiamo le persone che hanno la voglia l'ambizione di crescere di fare beh noi saremo perdenti in giro per il mondo questo è il monito che l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha rivolto ai giovani rimarcando anche in occasione della consegna della Carnival Horizon l'importanza della formazione e lamentando la poca disponibilità dei giovani italiani a sacrificarsi per ottenere le dovute competenze la Fincantieri è fatta di persone persone italiane mutuando le squadre di calcio l'Italia va male perché le squadre di calcio italiane non hanno pochi italiani sono gioventino quando la Juventus c'è tanti italiani li porta in nazionale vinci il mondiale e questo dobbiamo mettercelo bene in testa non perché vogliamo essere razzisti noi non siamo razzisti però ha una base italiana perché è la caratteristica di questa azienda Fincantieri con i cantiere di Monfalcone svolge un ruolo trainante per l'export regionale nel 2016 le esportazioni del frulli Venezia Giulia si sono attestate a 13,2 miliardi forti di commesse della canteristica navale pari a 1,7 miliardi con una crescita dell'80% considerando l'intera filiera industriale Fincantieri attiva in questa regione oltre 14.000 posti di lavoro e pesa per il 12% sull'occupazione del comparto manifatturiero regionale il cantiere di Monfalcone da solo attiva una forza lavoro di circa 9.000 occupati a fronte di 1.500 addetti diretti questo è sotto gli occhi di tutti se non ci fosse la Fincantieri credo che insomma la regione ne soffrirebbe parecchio non solo dal punto di vista diciamo occupazionale della creazione di ricchezza ma pensate soltanto al fatto che siamo tra i maggiori contribuenti della regione andiamo a scoprire ora la Carnival Horizon una nave da crociera all'avanguardia per caratteristiche e dotazioni che è destinata al mercato americano è lunga 323 metri e può ospitare a bordo oltre 6.400 persone con una stazza lorda di 133.500 tonnellate e la Carnival Horizon l'ultima nata in casa Fincantieri costruita nel cantiere di Marghera e rifinita e ultimata a Monfalcone insieme alla gemella Carnival Vista è la più grande nave finora costruita da Fincantieri per la flotta dell'americana Carnival Cruise Line primo operatore al mondo del settore croceristico l'Horizon si distingue per le soluzioni tecniche d'avanguardia rispettose dell'ambiente con allestimenti degli interni caratterizzati da un elevatissimo standard di comfort e una vasta gamma di intrattenimento tra cui un cinema 3D una birreria con produzione artigianale ristoranti, teatri, negozi e centri benessere oltre a un parco acquatico dal 1990 a oggi Fincantieri ha costruito nei suoi cantieri italiani 81 navi da crociera di cui 36 in Friuli Venezia Giulia la prima delle navi realizzate a Monfalcone è stata la Crown Princess nave da 70.000 tonnellate di stazza lorda consegnata appunto nel 1990 altre 44 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo di cui 10 per società armatrici del gruppo statunitense Parliamo ora della campagna elettorale che è partita con ovviamente insomma le prime dichiarazioni forti da una parte e dall'altra partiamo da Fedriga che oggi a Pordenone ha aperto appunto la campagna elettorale del centrodestra per le regionali ha parlato di migrazione e sicurezza ma anche sanità recupero dei finanziamenti per la terza corsia e riforma delle uti sentiamo io inizio la mia campagna da Pordenone perché ho scelto la mia terra qualcun altro ha scelto di andare a Roma Massimiliano Fedriga candidato alla presidenza della regione per il centrodestra ha aperto così la sua presentazione questa mattina nella città della destra tagliamento quanto ai temi cari al programma Fedriga ha iniziato ricordando che ci sarà una profonda modifica delle uti da cui verranno tolte le penalizzazioni rispetto ai comuni che non vogliono aderirvi poi sul tema della sanità il candidato ha parlato di un territorio trascurato e della necessità di un'azienda che possa coordinare gli ospedali la sanità territoriale e la ricerca medico-scientifica che in questi anni aggiunto è stata totalmente abbandonata infine la questione immigrazione e terza corsia un'impronta digitale mezza vicina a un nome dichiarato con una data di nascita inventata non sappiamo da dove vengono queste persone cosa vogliono fare e purtroppo i casi di cronaca quotidiana anche a livello regionale testimoniano che non sono tutte persone che portavano fiore vicino di casa in Pakistan in Afghanistan io mi auguro che sulle grandi battaglie terza corsia pensiamo a quello di cui parlavamo prima i soldi scippati alla regione o meglio che la regione si è fatta scippare anzi ha ceduto dicendo ecco il mio borsellino prendi quello che vuoi io spero che saranno grandi battaglie che indipendentemente dal colore politico sarà la forza di portare avanti tutti insieme Webb Nicola Webb torniamo a Pordenone nella casa di Sergio Bolzonello dove Massimiliano Fedriga strategicamente ha voluto presentare la sua candidatura e qui c'è un piccolo problema con la foto perché vediamo tutti quelli che sono i rappresentanti della coalizione da sinistra verso destra un po' così all'americana Tondo Scocimaro Riccardi Fedriga Bini e questa è Evania Gava neoparlamentare per la Lega Nord c'è il problema delle bande colorate esatto quindi vediamo Tondo mezzo bianco e mezzo scuro un po' bianco-nero come l'origine friulana lo legittima Scocimaro sul giallino Riccardi è verde Fedriga si salva Bini blu insomma bisogna un po' migliorare con le foto bisogna migliorare anche a livello di social avrete seguito nei giorni scorsi abbiamo dato ampia documentazione della polemica fra Salvatore Spitaleri e Renzo Tondo sulle dimissioni che Tondo avrebbe dovuto presentare Tondo ha diciamo ribadito in più riprese in questi giorni dai suoi profili Facebook che avrebbe presentato le dimissioni oggi posta un video in cui si dimette ma questo può essere chiunque adesso sulla fiducia diciamo che Renzo Tondo ma un po' così da suggeriamo un'inquadratura un po' più larga esatto da rivoluzione francese l'ho ghigliottinato Tondo non vogliamo che faccia questa fine quindi bisogna allargare un po' l'inquadratura ecco questo è il commento che facciamo e sempre per quello che riguarda Fedriga però abbiamo la risposta alla replica di Sergio Bolzonello che è il competitor principale non ce ne vogliono dal Movimento 5 Stelle ma è l'avversario diciamo più competitivo per quello che riguarda la corsa la sedia di Piazza Unità d'Italia che cosa dice Sergio Bolzonello che si aspettava una presentazione con un progetto e invece ha sentito solo slogan e nessun contenuto Fedriga aggiunge Bolzonello leggiamo nella nota quando parla di risorse tagliate dimentica che i suoi compagni di viaggio compreso il suo designato vicepresidente Riccardi con il patto Tondo Tremonti hanno penalizzato il Friuli Venezia Giulia sostanzialmente regalando più soldi a Roma con loro chiude Bolzonello abbiamo dovuto pagare 370 milioni di euro allo Stato ha parlato di politica anche sai chi? il Vescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato parla tutti di politica anche il Vescovo perché sai che cosa ha detto il Vescovo? ha detto che il mondo cattolico sostanzialmente non ha più un partito a cui riferirsi ma cerca risposte concrete in ordine sparso andiamo a sentire ha parlato anche ovviamente dell'emergenza al lavoro sentiamo il Vescovo questi gesti di amore sono come gocce come chicchi che cadono nel cuore degli altri perché quando faccio un gesto d'amore io lo faccio verso l'altro e quindi nascono da me e producono frutto e germogliano in altri cuori questi appunto in genere vengono fatti silenziosamente e quindi magari a volte si è anche un po' troppo pessimisti sull'andamento della nostra società per quanto riguarda invece le emergenze che continuano a permanere quali? quelle a cui bisogna dare subito risposta quella del lavoro non è certo nuova però resta perché la speranza è che i segnali di ripresa produttiva e finanziaria ecco si traducano anche in posti di lavoro ecco perché quello permette un segno di speranza diffuso a Natale ci eravamo lasciati con l'appello ai candidati in vista delle elezioni affinché diano risposta alle esigenze concrete dei cittadini alla luce di quanto è accaduto dopo il voto del 4 marzo il mondo cattolico secondo lei rispetto a un tempo a chi ha guardato? non so onestamente se si può ancora parlare di mondo cattolico nel senso di una specie di compattezza che mi pare non ci sia più da tempo ormai si siano distribuiti in forme diverse di partecipazione politica spero e penso che molti guardino alla sostanza e cioè alle promesse sperando che poi vengano mantenute torniamo sul web Nicola per parlare di un lutto torniamo sul web per parlare del lutto che ha colpito la famiglia dello sport della politica del Friuli Venezia Giulia perché oggi come avrete saputo è morto Dino Deanna che è stato senatore per Forza Italia dal 96 al 2001 ed è stato anche medico primario all'ospedale di Udine oltre che in diverse altre strutture come Ferrara e Sassari ed è stato anche un azzurro un campione di rugby qui lo vediamo in una foto recente però sapete anche che Dino Deanna è fratello di Elio Deanna e qui sono piovuti moltissimi ricordi su Facebook in relazione allo stretto rapporto che i due fratelli avevano e qua c'è un'immagine che un amico ha postato sul profilo Facebook di Elio proprio con una vecchia meta di Rovigo di quella che era la Sanson Rovigo quindi anche in questo caso legato all'Udinese insomma che era stato anche presidente della società bianconera Sanson è sponsor del rugby Rodigino qui vedete una meta dei fratelli Deanna che vanno a punto e quindi una foto molto bella e piace anche ricordare così Dino Deanna altri fatti di oggi nella nostra cronaca in pillole a cura di Francesca Santoro Scontro a tre sulla Ponte Bana a Magnano e Riviera all'altezza dell'uscita del negozio Bricoferre coinvolti nel sinistro due auto in camion quest'ultimo dopo l'impatto finito nel fosso che corre lungo la strada i due conducenti delle vetture hanno riportato gravi ferite tanto che dopo essere stati stabilizzati sono stati portati in codice rosso al Santa Maria della Misericordia grave incidente a Basiliano in via Europa Unita nella mattinata un'auto e una moto si sono scontrate ad avere la peggio è stato il Centauro soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Udine sul posto anche i carabinieri che dovranno chiarire la dinamica del sinistro ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra tanto da riportare un trauma cranico è accaduto un postino in via Bandidas a Cile il portalettere stava completando il giro di consegna in sella al suo scooter quando è appunto caduto soccorso dal personale del 118 è stato elitrasportato all'ospedale di Udine inventario amaro per la profumeria Douglas del cittafiera di Martignacco gli addetti hanno infatti scoperto che negli ultimi cinque mesi è stato rubato un centinaio di profumi per un valore al dettaglio di circa 12 mila euro la responsabile del punto vendita ha denunciato l'ammanco ai carabinieri dopo aver controllato la merce esposta sugli scaffali alle scatole dei profumi tutti di marca erano state attaccate le placchette metalliche antitaccheggio ma sistema di allarme sonoro non è mai scattato i ladri hanno quindi utilizzato una borsa schermata oppure hanno staccato il dispositivo a proposito di ospedale di Udine Nicola che abbiamo purtroppo sentito nominato spesso nell'ultimo servizio per soprattutto gli incidenti di oggi c'è una notizia interessante perché riguarda le nascite allora il sito dovemicuro.it che è un portale che si occupa di effettuare valutazioni in base ai dati che raccoglie sulle strutture sanitarie in Italia che cosa ci racconta? che in base ai dati del 2017 il Santa Maria della Misericordia è il primo in Friuli Venezia Giulia per numero di parti battendo di tre unità il burlo garofalo di Trieste tutto questo valutando i dati del programma nazionale esiti 2017 quindi non sono ovviamente i dati che fanno riferimento al 2018 la classifica la vediamo qui in questo articolo di Udine Today parla di 1665 parti per Udine 1662 per Trieste e 1011 per il Santa Maria degli Angeli di Pordenone quindi per tre bambini Udine batte Trieste sul filo di lana va bene cambiamo argomento le nuove tensioni tra Italia e Russia provocate dalle espulsioni dei diplomatici di Putin non paiono creare problemi per l'export friulano che continua a crescere verso Mosca come conferma la presidente di Confindustria Udine Anna Marecchi Danieli il nostro territorio fondamentalmente è evocato all'export ma i prodotti principali quindi parliamo di macchinari prodotti in metallo e mobili non sono toccati dalle sanzioni questo ha permesso all'export di non ridursi se non in minima parte e successivamente possiamo dire che parliamo di un più 19,9% nel 2017 dell'export Friuli Venezia Giulia verso la Russia abbiamo un peso del 2,2% rispetto all'export totale e le principali voci come detto sono apparecchiature elettriche sempre mobilio e macchinari per quanto riguarda invece l'export della provincia di Udine verso la Russia nel 2017 ha registrato un più 24,1% e il peso comunque della Russia è pari all'1,6% del totale ed è il diciottesimo partner rispetto alla provincia di Udine quindi i rapporti continuano nonostante tutto i rapporti continuano nonostante tutto se poi si va a parlare di sistema paese quindi di Italia la situazione cambia totalmente perché è sicuramente il nostro un paese vocato all'agroalimentare che ha subito dei danni ingenti a causa di queste sanzioni per fare dei numeri si parla di svariati miliardi di euro andiamo sul web per parlare delle nostre località di mare comincia la bella stagione che succede a Grado Lignano? Allora a Lignano succede che c'è una polemica sollevata dal consorzio dei produttori della pietra piasantina perché la pietra che è stata utilizzata per rifare il lungomare di Lignano non sarebbe pietra piasantina e quindi il presidente del consorzio Bini si lamenta dicendo che stanno posando un altro materiale che è diverso da quello previsto dal progetto se vogliamo avere una foto del lungomare di Lignano qua possiamo renderci conto di quella che è la pietra in questione ed effettivamente occhio nudo non sembrerebbe piasantina poi nei prossimi giorni dopo questa polemica sollevata da Bini avremo occasione di approfondire la questione se ci spostiamo un po' più verso est nell'altra località di mare del Friuli Venezia Giulia invece siamo a Grado dove attenzione notizia delle notizie data dal profilo facebook del sindaco Raugna che condivide delle foto di questo Fabio Fabris il ponte riapre viene collaudato è stato collaudato vedete qui le immagini del ponte girevole sembra un po' più largo adesso io non non me ne posso rendere conto perché ci vorrebbe la visione dal vivo però a me dà questa impressione e dovrebbe aprire per Pasqua quindi notizia chi volesse trascorrere la Pasqua e Pasquetta a Grado potrà servirsi del nuovo ponte girevole che poi verrà chiuso di nuovo per un'altra serie di riempimenti e poi verrà fatta l'inaugurazione che tanto piace ai politici sì è vero è vero questo serve invece parliamo di un appuntamento questa sera alle 21 e 30 qui su DNews TV perché vi trasmetteremo l'intervista di Mauro Mazza al giudice Giancarlo Caselli il magistrato che ha combattuto mafia e terrorismo racconta la sua carriera e presenta il libro sul processo Andreotti una piccola anticipazione una assoluzione per aver commesso il fatto non esiste in natura Francesco Marino ma non esiste quando si parla di Andreotti ma non esiste perché difficile puoi dire che sono tutte male va fatta a chiarezza ecco il libro scritto anche per questo motivo il figlio tredicenne di Santino di Matteo Giuseppe di Matteo viene sequestrato tenuto prigioniero per 18 mesi 18 viene ucciso mentre la televisione trasmette la notizia di un mandato di cattura contro un signore che in quel momento era ancora latitante era uno dei suoi carcerieri il suo cadavere poi sciolto nell'acido perché queste bestie che sono i mafiosi altro che uomini d'onore sono delle bestie temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa non so quello che succederà nell'aldilà ma l'importante è che ci sia il coraggio a prendere il sopravvento e a vincere così Borsellino grazie a Giancarlo Caselli grazie a voi appuntamento da non perdere quindi alle 21.30 su di News TV prima alle 21 ci sarà la quarta puntata di Come ti sistemo casa noi ora invece torniamo a parlare di sport sì torniamo a parlare di sport perché abbiamo detto della bella vittoria 4 a 2 della Juniors del Friuli Venezia Giulia al torneo delle regioni contro Piemonte Val d'Aosta una vittoria di rimonta che ha un protagonista assoluto il poker di Nicoloso ce lo racconta Lorenzo Paus One Man One Show un poker da cineteca di Nicoloso fa volare le semifinali la rappresentativa friulana Juniors nel torneo delle regioni dopo il percorso netto nella fase a gironi i ragazzi di mister Roberto Bortolussi regolano anche il Piemonte Val d'Aosta nella vincente quarto di finale giocato a Giulianova un 4 a 2 di tutto carattere partenza rembante del Friuli Venezia Giulia forte delle tre vittorie su Marche Puglia e Calabria con la porta sempre blindata il primo a sfiorare il gol è Fiorenzo che all'undicesimo calcia un potente mancino di poco alto la squadra continua a premere e al ventunesimo va in vantaggio con Nicoloso che converte il calcio d'angolo battuto da Di Lazzaro paradossalmente qui comincia la fase più difficile della partita per la nostra rappresentativa dato che appena cinque minuti più tardi per Toldi atterra in area Clivio e dal dischetto è precisa alla conclusione di Artiglia lo stesso per Toldi è poi protagonista anche dello sfortunato autogol con cui il Piemonte ribalta la situazione prima del rientro negli spogliatoi a questo punto invece esce l'orgoglio frulano che non si fa abbattere dalle prime due reti incassate nel torneo il nostro 11 torna a crescere di intensità e trova in Nicoloso uno spietato finalizzatore colpisce prima a freddo con un diagonale da dentro l'area al 48esimo poi con un tremendo 1-2 tra il 75esimo e il 77esimo che mette definitivamente fuori dai giochi la formazione di Franco Giuliano rimasta pure in 10 nel finale il sogno frulano al torneo delle regioni continua così grazie agli juniores che ora in semifinale se la vedranno con i padroni di casa dell'Abruzzo l'altro match invece vedrà di fronte Marche ed Emilia Romagna e seguiremo domani la semifinale tra Friuli Venezia Giulia e i padroni di casa dell'Abruzzo e appuntamento è proprio a domani con lo sport parola che torna a voi grazie Stefano Giovampietro grazie Nicolà Angeli grazie Giorgia e a voi per averci seguito buon proseguimento di serata su Dnews TV grazie a tutti